Fermi, non scrollate che questa parita è pure mia. Insomma c'è sta sto tizio Alfredo che è perseguitato dal fatto che tutti gli danno della faccia da culo. Al lavoro gli danno della faccia da culo, al bar gli danno della faccia da culo, oppure nell'autobus gli danno della faccia da culo. Quindi a forza di subì ste injurie, Alfredo si è convinto di averci proprio la faccia come un culo e quando si guarda allo specchio vede proprio un culo. Quindi una sera torna disperato a casa dalla moglie, si mettono seduti in cucina a fare quattro chiacchiere allora lui dice alla moglie, cara io non la faccio più, io ormai ne so convinto, c'ho la faccia come un culo. E la moglie, ma no caro, ma deve finire questa tua paranoia, è solo una fissazione, è solo nella tua testa. Tu non assomigli assolutamente a un culo, amore mio. Insomma Alfredo mentre stava chiacchierando con la moglie, stava giochicchiando con una penna sul tavolo. Allora distrattamente si tocca una guancia e si fa una macchia. Allora la moglie gli fa, Alfredo guarda c'hai una macchia qua. Alfredo gli fa, che qua cara? No Alfredo, sull'altra chiappa.